Ciao, sono a casa di Marco che ha deciso di riscaldare casa, raffrescarla e produrre l'acqua calda sanitaria con l'acqua di falda che trova a un metro e mezzo di profondità. Oggi ti spiego come e te lo faccio anche raccontare da lui. Ciao, siamo qui a nord di Padova, siamo a casa di Marco dove è stata realizzata una centrale termica. Oggi è stato collaudato con il centro assistenza l'impianto per funzionamento, siamo in estate quindi l'abbiamo provata in raffrescamento. Abbiamo una centrale termica dove è stata installata una pompa di calore per acqua calda sanitaria, raffrescamento e riscaldamento di tipo acqua-acqua, quindi per leva l'acqua di falda, l'acqua del pozzo per poi ributtarla, poi ti mostrerò il pozzo qui fuori. C'è da dire una cosa, l'abitazione è di nuova costruzione e tutti i progetti parlavano di una pompa di calore aria-acqua però Marco aveva delle perplessità sull'aria-acqua, non che non funzionasse. Però sapendo che aveva a disposizione anche dell'acqua di falda sotto casa, perché non utilizzarla? Però nessuno l'ha consigliato bene come un psicologo per capire quale effettivamente era la migliore soluzione per casa sua. Te lo faccio raccontare da lui, intanto ti racconto un po' la centrale termica. Qui abbiamo la pompa di calore con tutto il gruppo frigorifero all'interno, il classico box in box che ti ho già raccontato in altri episodi, dove la possibilità di estrarre tutto il gruppo frigo in 5 minuti è fondamentale per l'assistenza. In questo caso, non l'hai mai visto nei miei video, abbiamo una versione con l'acqua sanitaria incorporata. Quasi quasi, visto che siamo qui, ti mostro anche la faccenda. Eccoci qui, qui abbiamo un bollettore da 200 litri di acqua sanitaria. Non è un accumulo tecnico dove viene prodotta l'acqua sanitaria istantanea, ma è proprio acqua sanitaria. Quindi abbiamo 200 litri di acqua sanitaria usufruibile. Poi da quest'altra parte abbiamo lo scambiatore a piastre per preservare la pompa di calore. Infatti, prelevando l'acqua da sottoterra c'è il rischio che entrino sporcizie, entrino sabbia e altri elementi che possono corrodere lo scambiatore a piastre che è all'interno della pompa di calore. È stato messo comunque un filtro per togliere le impurità, ma nel caso di anomalia che dovesse corrodere qualcosa, almeno si sacrifica lo scambiatore a piastre qui esterno e non tutta la pompa di calore. Quindi da un lato abbiamo l'acqua che arriva dal giardino, dal pozzo che è stato fatto in giardino, e poi viene rimesso in canale, perché in questo comune permettevano di prelevare l'acqua dal pozzo e ributtarla in canale, mentre dall'altra parte abbiamo il circuito che lavora sulla pompa di calore. Poi è stato messo un puffer di acqua tecnica. Questo qui invece lavora tra la macchina e l'impianto. Un puffer di acqua tecnica da 100 litri è stato messo anche sollevato da parte dell'installatore per poter avere altro spazio utilizzabile poi in casa. L'installatore poi ha optato per una soluzione intelligente nell'invertire il ciclo estate-inverno, ovvero d'estate viene prelevata l'acqua dalla parte più bassa del puffer per portarla poi agli split idronici, in modo da avere l'acqua più fredda, perché sai bene che l'acqua stratifica, quindi qui abbiamo l'acqua più fredda e qui l'acqua più calda, anche d'estate quando facciamo il raffrescamento. Quindi d'estate preleviamo da sotto e mandiamo gli split, torna indietro e la ributtiamo sopra. D'inverno invece viene invertito il circuito in modo da pescare l'acqua più calda dalla parte alta e mandarlo nell'impianto a pavimento. Come vedi mancano ancora alcune coibentazioni, ma questo perché? Perché è stato collaudato oggi l'impianto ed è dispensabile vedere se ci sono delle perdite e che tutto sia a posto. Una volta garantito il tutto, saranno ultimate le coibentazioni e tutto potrà funzionare a pieno regime. Adesso ti porto fuori in giardino, che ti mostro il pozzo e poi ti faccio raccontare da Marco come gestisce la casa. Eccoci qua in giardino da Marco. Questo è il pozzo che è stato realizzato. All'acqua a un metro e mezzo di profondità è vero, ma con il pozzo sono andati a 20 metri di profondità. Questo perché la prima falda di solito è un po' sporca di sabbia e poi non può garantire tutta quella portata necessaria per utilizzarla in casa. Qui sono indispensabili quasi 40 litri al minuto di acqua. Come vedi il pozzo è questo qui, la tubazione che è stata messa dall'impresa che ha fatto il pozzo e dentro c'è la pompa a siluro che pesca l'acqua dalla falda. E poi attraverso questa tubazione viene portata all'interno della centrale termica che è qui a 10 metri. D'altra parte invece abbiamo lo scarico dell'acqua che arriva dalla pompa di calore. È ovviamente acqua d'inverno che esce fredda perché noi la raffreddiamo. Questo è lo scarico che poi con un scarico a perdere porta nello pozzo. Come vedi la tubazione, in questo momento la pompa è ferma, ma se fosse in funzione vedresti i 40 litri al minuto che escono da questa tubazione. Bene, è un lavoro piuttosto semplice come vedi, qualsiasi azienda di perforazione di pozzi te lo fa in qualche ora, ma adesso ti faccio raccontare da Marco come gestisce l'impianto e perché hai scelto questa tecnologia. Ciao, sono Marco, come vi ha presentato prima Samuele, questa è la mia casa. Tempo fa, mentre stavamo pensando di fare l'impianto, ho conosciuto Samuele, è venuto qui, ha visto l'abitazione e ha visto le potenzialità. Le potenzialità erano, ma perché non metti una pompa di calore geotermica acqua-acqua al posto di un'acquaria e vista la proposta mi sono informato e allora mi sono informato anche con il termotecnico che mi ha suggerito che era una buona idea e insieme a Samuele e all'impresa abbiamo optato per questa soluzione. La soluzione è riscaldamento a pavimento, pompa di calore geotermica acqua-acqua e il raffrescamento viene fatto con i fan coil, sempre con l'acqua prodotta dalla pompa di calore. Unito a questo c'è l'impianto WMC che ci garantisce il ricambio dell'aria in modo da avere sempre l'ambiente salubre e questo abbinato all'impianto fotovoltaico che ci aiuta nei momenti in cui la pompa di calore richiede più energia. Per ricercare la pompa di calore più idonea alla nostra casa il punto cruciale era quale pompa di calore. Ovviamente per sentito dire la pompa di calore migliore quella che aveva la resa, il COP, sempre più stabile era quella acqua-acqua. Però tutti non conoscevano questa tecnologia e mi proponevano l'aria-acqua. La mia paura qual era? Nella stagione invernale, con le nebbie, visto che siamo in provincia di Padova, la mia paura più grande era il consumo invernale. Consumo invernale perché le pompe di calore che scambiano con l'aria hanno il problema dell'umidità invernale che vanno a congelare il gruppo batteria esterno e deve fare l'inversione per riportare in condizioni ottimali lo scambiatore. Finché poi la discussione con Samuele, che è venuto a trovarci qui da noi, ci ha detto ma perché non la usi? Tanto se c'hai l'acqua qui, prova a sentire e vediamo. Abbiamo votato per questa soluzione ed è la soluzione migliore perché non hai nulla di esterno, che anche quello è un vantaggio perché se hai vicini poi con rumore la pompa di calore è dentro, è tutto, un unico sistema interno e quindi non c'è nessun problema. Ecco, spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai domande specifiche per il tuo caso, perché sai di avere l'acqua sotto casa comoda e abiti in una casa di proprietà, contattami e scrivimi nei commenti qui sotto. Sai che come sempre sarò io a risponderti, quindi se tarderò nella risposta sappi che perché voglio essere io di prima persona a darti le risposte. E come sempre, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Grazie. 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 Grazie.